Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. La celebre conduttrice televisiva Federica Panicucci sta trascorrendo una piacevole vacanza insieme alla sua famiglia nella rinomata località di Forte dei Marmi. Come di consueto, anche quest'anno ha scelto questa meta per rilassarsi e prendere il sole prima di affrontare la nuova stagione televisiva, in cui tornerà ad essere al timone di mattino 5 a settembre. La bellezza e lo stile di Federica Panicucci sono diventati un vero e proprio simbolo. Nonostante i suoi 55 anni, la conduttrice televisiva conserva un fisico perfetto, quasi statuario, che suscita l'invidia di molte donne. La sua recente foto in bikini pubblicata sui social ha lasciato tutti senza parole. L'immagine mostra la sua forma fisica invidiabile e ha suscitato ammirazione da parte dei suoi numerosi fan. Federica Panicucci dimostra che l'età è solo un numero e che una cura costante del proprio corpo e uno stile di vita sano possono contribuire a mantenere una forma fisica invidiabile. La sua bellezza e la sua sicurezza trasmettono un messaggio positivo, ispirando molte persone a prendersi cura di se stesse e a sentirsi bene nel proprio corpo. Mentre si gode le meritate vacanze, Federica Panicucci continua a essere un'icona di bellezza e di stile, dimostrando che è possibile mantenere una forma fisica impeccabile a qualsiasi età.